Sono cambiati gli interpreti ma non la mentalità e i dettami tattici. E' quanto emerge dall'ultimo test amichevole prima del debutto in Team Cup vinto per 1-0 dall'Arezzo contro l'Alali di Stefano Cusin. C'era grande attesa tra i difusi amaranto di vedere all'opera il nuovo Arezzo, soprattutto per coloro, la maggior parte, che non ha avuto modo di seguire i test con Casha, Bari e Latina. Quella contro l'Alali è stata una partita che ha visto l'Arezzo non mollare un centimetro in fase difensiva. Ripartire in velocità, sfruttare al meglio i calci piazzati esattamente come facevano Panariello e compagni. Non a caso il match si sblocca al sesto minuto proprio grazie ad una punizione. Capece, onnipresente, quando c'è da battere un calcio piazzato, chiama lo schema. Gambadori entra in area lasciando spazio a Sperotto che di sinistro trova l'angolo giusto per il gol. I campioni di Palestina arrivati in Italia per il ritiro precampionato, seppur avanti nella condizione atletica, non riescono a sfondare la resistenza alla difesa amaranto. Difficile sfondare l'Arezzo per vie verticali e allora meglio provarci per vie orizzontali, anche se alla fine i tiri dalla lunga distanza o vengono fermati dall'estremo difensore Baiocco, arrivato in settimana dopo l'infortunio di Stefano Fortunato, oppure terminano fuori bersaglio. Capuano in poco meno di due settimane di lavoro pare aver già infuso nei nuovi giocatori lo spirito e la filosofia del vecchio Arezzo. Esterni di centrocampo pronti a scalare sulla linea difensiva in fase di non possesso, difesa 3 che non rischia nulla in fase di impostazione e che punta molto sul fisico e sui comandi di Monaco. Insomma cose già viste fino a pochi mesi fa ma che rappresentano una base importante da cui partire, visto e considerato che Capuano ha lavorato dal 16 luglio ad oggi su una squadra praticamente nuova e che ha già preso parte della filosofia di gioco del suo allenatore. Le sorprese arrivano soprattutto in attacco, dove Sasha Corri rispetta ad un buon vissuto che svariava in ogni dove, tende a muoversi soprattutto verticalmente tra la lunetta della metà campo e quella dell'area di rigore, intercettando tutti i lanci lunghi e l'invida al fondo per innescare, con sponde giocate di prima, Betancourt. Positivo anche l'atteggiamento della squadra, a Castiglion-Ferentino è andata in scena la partita della pace, ma Amarante e Palestinesi non hanno disegnato interventi decisi, alla fine si conteranno ben 5 cartellini gialli. Ovviamente è calcio d'estate e va preso con le molle, in attesa di vedere all'opera l'Arezzo contro un avversario di categoria come l'Aquila e di registrare ulteriori rinforzi in difesa, dove lo stesso Capuano ha sottolineato di avere la rosa ristretta.